Assessore Lampis oggi audizione alla Commissione Ambiente in qualità di coordinatore della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni e di Assessore della Regione Sardegna. Il tema è quello degli imballaggi, da un lato la revisione dei corrispettivi che attraverso i consorsi poi giungono ai comuni, dall'altro anche la richiesta di un ruolo maggiore da riconoscere alle regioni. Esattamente, proprio così. Noi riteniamo che oggi poter aumentare le percentuali di raccolta differenziata sia un obiettivo comune, compreso e condiviso dalle stesse regioni. I comuni possono e devono avere maggiori contributi per poter migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata. In questo senso le regioni che da anni hanno maturato un'esperienza su larga scala di gestione del ciclo dei rifiuti danno tutta la propria disponibilità sia all'Anci che al Consorzio Conai perché insieme si possa veramente raggiungere qualità elevate di raccolta differenziata stessa.